Buonasera e benvenuti a questa edizione di Mezzanotte delle Notizie del Giorno. Salvini, martedì, ascolterò Conte senza pregiudizi. Se ci sarà spartizione andremo in piazza pacificamente. Il vicepremier annuncia il suo intervento in aula al Senato. Non lascio, non do la soddisfazione di togliere il disturbo. Voto è la via maestra. Governo PD Movimento 5 Stelle è una truffa agli italiani, ma non ho i numeri per fermarlo. I capigruppo leghisti dicono la maggioranza giallorossa sarebbe un tradimento. Grillo riunisce i big del Movimento 5 Stelle a Marina di Bibona. Salvini non è più credibile, esce da questo summit. Il cofondatore del Movimento vede Di Maio, Fico, Casaleggio e Di Battista. Tutti compatti, è un interlocutore inaffidabile. Duva e Pautuanelli dicono Lega disperata. Chiedano conto al loro leader irresponsabile. Sempre sulla crisi, Prodi per la maggioranza Ursula. E Renzi lancia la Leopolda. Zingaretti prepara la direzione del 21. Rischio spaccatura scissione nel Partito Democratico. L'ex presidente della Commissione UE, Prodi, lancia l'idea di un governo filoeuropeo con un patto alla tedesca tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Forza Italia. I partiti che votarono von der Leyen. Calenda dice l'ex leader Dem sta già pensando al dopo Zingaretti. Il segretario cerca l'unità, la bussola e prepararsi alle elezioni e vedere se esiste la possibilità di un governo di legislatura, cioè quello con il Movimento 5 Stelle. Quindi Zingaretti dice al voto, però se c'è la possibilità di un governo con i 5 Stelle, vediamo. Aperto alle due soluzioni. Passiamo alla migrazione Open Arms. La Spagna offre le Baleari dopo il no della ONG al porto che reputavano più lontano il porto di Algeciras. Si muove il governo di Pedro Sanchez dopo 18 giorni di silenzio e propone prima lo scalo andaluso, poi cambia la scelta per accorciare i tempi di viaggio e per le polemiche suscitate appunto del sindaco di quella città che rimane sconcertato perché li mandano sempre da lui, dice. Madrid minaccia un ricorso alle istituzioni europee contro la linea dei porti chiusi di Roma. Toninelli, dice, la guardia costiera italiana è pronta ad accompagnarli fino in Spagna le Baleari. Salvini commenta inaccettabile il no all'offerta spagnola. Confermata la redistribuzione tra sei paesi dell'Unione Europea, la Francia ne ospiterà 40 ma solo se saranno riconosciuti come rifugiati. Quindi probabilmente di questi 40 forse uno, due o nessuno saranno riconosciuti come rifugiati. Intanto la questione dei medici di Lampedusa e i medici che sono saliti a bordo della Open Arms e hanno fatto scendere 13 persone, i medici di Lampedusa hanno riscontrato che solo uno aveva un'otite e gli altri non avevano nessun tipo di patologia, mentre i medici sulla Open Arms avevano parlato di gravi patologie cliniche. Quindi la procura di Agrigento, il procuratore aggiunto Vella, ha mandato la squadra mobile e dei medici come periti e il risponso è che non c'è nessuna situazione sanitaria allarmante, non ci sono patologie che creano comunque una situazione di rischio. Caso Epstein, un filmato riprende il principe Andrea nella casa del finanziere a Manaptam. Il video pubblicato dalla Daily Mail risale al dicembre del 2010. Passiamo in Afghanistan, 63 morti e 182 feriti per attacco kamikaze a un ricevimento nuziale. Si aggrava il bilancio dell'attentato a Kabul, tra le vittime anche donne e bambini. I talibani negano il coinvolgimento diretto. Passiamo ad Hong Kong, un mare di ombrelli a Victoria Park per chiedere democrazia. Migliaia di manifestanti tornano in piazza per il maxiraduno contro Pechino. Per gli organizzatori hanno partecipato 1,7 milioni di persone. I militari cinesi proseguono le esercitazioni anti-disordini a Shenzhen. Trovato morto, il turista francese è disperto nel Cilento. Il corpo del giovane scomparso il 9 agosto scorso è stato rinvenuto in un diruppo nel comune di San Giovanni, a Piro. Erano arrivati dalla Francia 20 amici per cercarlo, che adesso denunciano. I soccorsi sono stati troppo lenti. Il turista aveva detto nella sua ultima comunicazione col cellulare «Mi sono spezzato le gambe, ma non so esattamente dove mi trovo». Passiamo a Torino, uccide la moglie e poi si consegna alla polizia. Il 65enne italiano ha colpito la donna con un oggetto appuntito. Solo dopo qualche ora ha chiamato i carabinieri al 112. Muore travolto da un'auto pirata. Fermato il conducente, era ubriaco. Il 34enne è morto sul colpo a Castelvolturno, in Manette, un ucraino. Dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Tornando alle ONG, in mare c'è la Ocean Viking, grande nave norvegese, che è tra Malta e Italia e chiede un porto sicuro per sbarcare ed è in coda alla Open Arms, nel senso che sta aspettando di vedere cosa succede all'altra ONG per agire di conseguenza. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci. Grazie.